È stata una grande giornata per Mauro Capitani, questa presentazione del libro ha avuto un grandissimo successo, 50 anni di pittura, Mauro sei accanto a un personaggio importante come Roberto Vasai, naturalmente Presidente della provincia di Arezzo. Allora Mauro è arrivato questo libro, è arrivata una giornata a Firenze bellissima, quanto sei contento adesso? Sono contento innanzitutto di chiudere questa giornata con un amico accanto, Presidente della provincia di Arezzo, ma innanzitutto amico Roberto Vasai. Quindi è un aspetto conclusivo importantissimo, quindi l'affetto dall'inizio e l'affetto fino alla fine. Mi sembra che tutto sia andato con chiarezza, non dico bene, il bene secondario diciamo, bene senz'altro, ma l'importante è che tutto sia stato scandito, sia sotto il profilo dei ringraziamenti, dove posso aver peccato in qualcosa, e anche sotto il profilo, diciamo, critico del Professor Puntelli che ci ha appunto illustrato la mia opera. E quindi grazie veramente a voi dell'intervento. Presidente, porta a casa il libro, giustamente, molto lieto. Mi sembra ovvio. Peraltro devo ringraziarlo due volte, come Presidente della provincia di Arezzo, e anche poi, in quanto la Gorin ha dato, diciamo, una collaborazione a questo volume, è stato bello, insomma, veramente importante. Il Presidente ha partecipato volentieri, qui in sala, accanto a Genio Gianni, insomma, è stata una bella giornata. Una giornata bellissima. Ma, beh, Mauro è una delle figure più importanti del nostro territorio, insomma. Basta vedere la sua opera, le opere che ha fatto nella terra di Arezzo. È un valdarnese importante, ma come tutti i personaggi, come ho detto prima, di qualità, poi è anche una grande persona. È una bella persona, insomma, e questo non guasta in un mondo un po' particolare. Invece abbiamo bisogno anche di figure come Mauro, che sanno esprimere, attraverso la pittura, attraverso l'arte, cose straordinarie, ma nello stesso tempo tiene conto delle radici e del suo territorio, anche perché attraverso i dipinti poi lo vediamo, questo territorio. Bene, grazie Presidente. Da grande cosa farà Mauro Capitale? Chiudiamo una battuta, dai. Da grande? No, non è una battuta. Non sono grande ancora, per cui la risposta è questa, insomma.